Vuoi dire forte? Il mio lavoro è quello. Allora, ragazzi, arriviamo al punto clou della puntata di oggi, prima di salutarci. Allora. Allora, amici, eccoci qua. Qualcuno mi ha segnalato questo account. Qualcuno mi ha segnalato questo account. Non mi sono incazzato, sempre c'è che semplicemente odio le persone che parlano per dare fiato alla bocca. Informati prima di fare domande a cui già esistono risposte. Caprone! Allora, ovviamente sto scherzando. Instapower3.0, ok? Guarda caso ha più o meno gli stessi follower che aveva l'account dell'innominabile, che è scomparso da Instagram. E cosa succede? Mi sembra molto... Guardate, Instagram Specialist, cresciamo persone e brand attività, free InstaTips, servizi per crescere con persone italiane reali e attive. Instapoweragency.com Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Fai una super ricarica al tuo profilo personale. In soli 4 mesi ho raggiunto 30k di follower. Ora inizio a farne un guadagno fisso mensile. Non sarei mai riuscita senza la loro spinta grazie a IG Power. La strategia di IG Power è un'agenzia di social media manager. Siamo un gruppo di esperti di social network ed attualmente gestiamo un network di oltre 100 pagine con milioni di follower in varie nicchie. Però non ci sono i follower, non ci sono gli influencer, diciamo, che gestiscono. Mi ricorda qualcuno questa storia. Avrai follower reali e in target con il tuo prodotto o servizio. Le persone scelgono spontaneamente di iniziare a seguirti totalmente IG Compliant. Non mettiamo in alcun modo in rischio il tuo account. Come avviene l'attivazione? Richiedere attivazione è estremamente semplice. Ti basterà scegliere uno dei pacchetti che trovi sotto. La scelta del pacchetto dipende dall'obiettivo che vuoi raggiungere. Puoi iniziare con il pacchetto settimanale e in seguito fare l'upgrade ad uno dei due pacchetti mensili. Una volta inseriti i dati di pagamento, ti chiederemo i dati necessari per l'attivazione. No, non abbiamo bisogno della tua password. Basterà il nome del tuo account e in breve tempo attiviamo il tuo pacchetto. In poche settimane avrai un account Instagram trasformato in un business. Tutto quello che dovrai fare è occuparti del contenuto. A renderli noti ci pensiamo noi. Dovrai solo concentrarti ad intrattenere i tuoi follower e portarli a seguirti. Numero uno servizio in Italia. Cioè, ragazzi. Ragazzi, è fantastico. Dario, imprenditore. Cristina, influencer. Ad ora conto 45.000 follower. Zoe. I nostri prezzi. I nostri prezzi. Tra l'altro neanche qui è esposta la partita IVA sul sito, se non erro. Vediamo, eh. Non c'è la partita IVA. Il giorno, ultimo aggiornamento, 14 giugno, eh. Ieri. Interessante. L'aveva già visto a me in live? Le foto dei tizi sono prese da internet. Che le... Bene, ragazzi. Quindi, tutto ciò, semplicemente per dirvi, non fate assolutamente questi pacchetti. Non affidatevi a questa gente che vi promette la fama e il successo di farvi ottenere follower, di farvi diventare famosi e di farvi guadagnare sui social. Perché non funzionano. Sono delle sole totali. Per cortesia. Fate passaparola, perché è importante. Perché purtroppo non abbiamo altri mezzi per annientare questo personaggio che continua a reinventarsi, a scomparire, riapparire sotto altri nomi. Quello che possiamo fare è fare passaparola e quindi diffidare e far diffidare anche i nostri amici da questi esseri insulti che si approfittano dell'ignoranza delle persone e della poca acutezza a volte. Questo è l'account Instagram riconvertito di Liccardo, perché hai i stessi follower. Mi sembra quello, onestamente, ragazzi. Mi sembra proprio quello. Non lo so. Guarda il timer. Il timer rimane sempre fisso a 11 ogni volta che lo riapri. Guardate. Ivan Superstreamer con gli occhiali che dà la caccia ai criminali. Grazie Iron. Grazie di Libiz. È fantastico, ragazzi. Guardate. Ogni volta che rifresci la pagina riparte da 15-19. Il prezzo aumenta trama. Cioè, questa è ingannevole, raga. È una truffa. Ma io questo lo denuncio. Ma veramente, stiamo parlando. Ma che schifo. Guardate. Cioè, ogni volta che aggiorno la pagina rimane uguale il tempo. Che schifo. Stop truffa questa, ragazzi. Segnaliamolo in massa. Cioè, facciamo qualcosa. Facciamo qualcosa. A parte che non ha neanche la partita IVA esposta qui sul sito. Anche quello non è legale. Almeno ho aggiunto il coso della privacy, forse. Vediamo. Facciamo un pacchetto. Acquista subito. Hai scelto VIP Power Pack. Inserisci i tuoi dati. Sicuramente lo farò. Che tristezza, ragazzi. Mamma mia. Che tristezza. Bene. Quindi, questo è quanto, amici. Questa era l'ultima notizia del giorno. Non vi fidate di questo account. Ma in generale, di chiunque faccia questo tipo di servizio, non c'è da fidarsi, ragazzi. Perché nessuno vi regala niente. Nessuno vi può regalare la fama, il successo, e tutte quelle minchiate lì. Mi raccomando. Non ci cascate. Io lo so che siete svegli. Però magari ci sono persone meno sveglie, che non conoscono bene questo mondo, che si fanno abbindolare. Quindi è compito nostro fare passaparola il più possibile. Grazie. Grazie. Grazie.